Urla a squarciagola. È chiuso nel suo appartamento di via Medici a Vicenza e alcuni vicini di casa lo sentono mentre è esposto il mobilio con forti rumori e invece contro i passanti sulla strada. Viene chiamato il 113. Gli agenti della questura arrivano sul posto e sentono anche loro dalla strada le urla dell'uomo per cui decidono di intervenire immediatamente. Bussano alla porta e di fronte a loro si presenta un signore ben distinto che malgrado sia chiaramente in preda ai fumi dell'alcol fornisce ogni informazione sinché di fronte alla raccomandazione di non disturbare il vicinato si altera e inizia a inveire in maniera smodata. Viene richiesto l'intervento dei medici del SUEM ma l'uomo non si calma e continua a inveire in direzione dei condomini, dei poliziotti e degli infermieri. Per questo è stato portato in ospedale al pronto soccorso per un controllo. Grazie a tutti.